Salve a tutti da Titan89 e benvenuti a un nuovo video di Nioh, sono qui un attimo dal fabbro perché ho visto che c'è un dialogo mi dimenticai poi di parlarci, praticamente qua nel dialogo ci sono un sacco di cose per la finità d'anima e di tale robaccia così, tome però nipote di Senji Muramasa, ok, vabbè niente ragazzi fabbro è stata una dilusione io voglio fare oggi però la missione secondaria tra le fiamme perché non l'abbiamo fatta ancora maschera Yotoko, Kayakudama, pezzo di ferro spirituale e Kusarigama Mikazuki ci danno 5.448 amrita ricordi il villaggio dove hai incontrato un maestro Azo? Pare che lì sia all'opera un qualche misterioso nuovo potere? l'anziano del villaggio mi ha riferito che l'intera aria è un inferno, per favore torna al villaggio e mettilo in salvo prima che la situazione precipiti, ragazzi di nuovo dobbiamo andare al villaggio iniziale perché di nuovo c'è un problema solo che la missione secondaria del villaggio precedente era contro un bandito, qui ha detto che c'è un potere strano quindi credo che siamo uno yokai questa volta il set che ho sul nostro protagonista, il settaggio anzi, è prettamente contro la paralisi perché se avete visto il mio video precedente ho avuto a che fare contro una tizia piuttosto ostica che ci paralizzava quindi adesso diciamo che torniamo, in quanto più possibile, ad un assetto di guadagno amrita vedete no? sto mettendo tutto quello che va bene contro... che ci dia insomma più ammerita possibili devo stare attento al peso equipaggiato ma beh che qua questo gioco è stranissimo col peso cioè è troppo... troppo... troppo strano possiamo fare... per esempio... vediamo eh ammerita ottenuto da personaggi questo e questo invece... ammerita ottenuto da personaggi anche questo forse ok avete visto no? oh che brutto che è un puffo mamma mia ma è necessario questo cappello? cioè è necessario proprio per forza? ammerita ottenuti effettivamente li da... no vabbè lasciamo stare lasciamo questo allora... chi... chi è? chi mi ha visto? ah per... aiii mamma mia quanto ci mette a lasciare fu... quanto ci mette a deporre un fucile? eeeh... si vabbè ok proviamo di nuovo no come non lo... vabbè basta mi sto incazzando andiamoci che poi ho sprecato un tiro di schioppo eeeh... sto lasciando lascia? ho modificato senza farvelo vedere che tanto lì... non è che avete perso niente le do pie queste infatti familiarità zero li ho modificati al fabbro per provare vediamo un po' dovrebbero essere cresciute di danno dunque essendo questa missione secondaria la faccio sempre più svelto possibile cioè... svelto vabbè in modo di dire andrò più che posso ah questo non c'era nelle altre parti salve perfetto no a livello successivo non ancora probabilmente non ci sarà bisogno di salire di livello in questo... ecco in questa missione è buono e se è buono qui la porticina è già aperta non ci sono rane da raccogliere credo che non ci sono mai durante... eeeh... durante le missioni secondarie uh... ok aia 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 è buono è buono ho messo la cosa difensiva perchè contro lo yokai ah dai lo schiaffetto che mi ha dato se lo... poteva evitare senti ok difensiva però mettiamo quella intermedia che... qualcosina la togliamo almeno ok ce l'avevo fatta fatemi ragionare adesso qui sotto mi sa che non si può camminare benissimo o sbaglio ehi ciao cosa ho visto? a parte che questo danno lo... lo potevo benissimo evitare eeeh... troppa gente troppa gente vabbè se scappo un attimo non vi dispiacete no? ok allora con calma dov'è quel tizio che... ehiiii tu da dove... maledetti ma credo che non si possa saltare ah si vabbè questa cosa è stata brutta perchè devo colpirne solamente uno alla volta non capisco ooooh stavolta non ho colpiti due no 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 non esageriamo con la fortuna eh ho già usato due cure sono proprio stupido usarle così tante fermo così nooo oh 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 mi avrebbe fatto piuttosto male mi sa fermo lì fermo lì ah spunti anche fuoco ooooh ragazzi magari era difficile da... da fare però affrontato così è stato... oh non è ancora morto calmo vieni qui vieni qui vieni qui no 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 non vieni qui si pure il fuoco mi danneggia maledetto ma che dice? ok prendiamo tutto il casino che c'è qui a terra sono veramente troppe cose da leggere frecce, pietre, archi, cote cozzane di ferro ok io questo posto l'ho fatto già tre volte anche di più mi sa qua si cade non sapevo che si cadeva ma volevo evitare non fa niente e qui bravissimo ma com'è che non l'ho preso tre... tre volte l'ho... l'ho picchiato oh cosa nasconde questo scrigno? ascia d'acciaio nero crassetta shinobi freccia amaya vabbè qua altra roba eiii calma oh neee ma giochiamo con l'assetto super attacco era da un po' che non lo provavo il super... oh 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 aspettate perchè ho fatto una cosa così stupida no qui la scala non è scesa qui c'è il fuoco vicolo cieco vicolo cieco diciamo non sto andando in una bella situazione nooo no no non pensavo che tu potessi entrare fuoco 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 via 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 salve allora fatemi ragionare un attimo fatemi ragionare un attimo uuuuh subito via ciao ciao ok si ma io ho visto che l'altro tizio eccolo si è buttato muori un attimo ok ora la domanda è no eeeh cosa è meglio affrontare per prima grande ma non luci? si ma così non vale ecco questa è stata una bella cosa di spreco vieni qui eeeh pure da sopra che ci ci picchiano vediamo se riusciamo a ammassacarlo veloce veloce no non siamo riusciti a ammassacarlo veloce veloce mamma mia che fatica a sopravvivere allora tu ecco ed appunto ok qui sotto dove sta il tizio? ma non è morto? ok ora è morto ora gentilmente fatemi uuuuh bravo 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 si si così ti voglio no no rimani lì rimani lì bravo ok dovrebbe passare da qui il motociclista ok ed è morto anche lui no non ne vale la pena ragazzi uccidersi per prendere quelle cosette la quindi cerchiamo invece di vedere chi altro possiamo raccogliere qui nei dintorni beh qui c'è un tizio ma si va raggiungiamolo alvee grazie che altro c'è che mi può massacrare da queste parti ah qui non... ahhh potevo evitarmi questo fuoco quell'oggetto la oh no che speco che speco di vita e vabbè non riesci mai a prenderli mai dimmi te come devo... ecco io mi stavo anche difendendo nooo va bene ok oggetti di urgenza e un antilo soltanto ne abbiamo tanti fa niente fa niente ok ah no stavo dicendo no? stavo dicendo io vorrei tanto azionare quel santuarietto ma... mi conviene? mi conviene veramente? se sto tanto bene qui sopra e... ecco ecco perché poi no mmm... non sono difficili da vedere cioè... queste cose dove si cade sono belle visibili eh no che dite oddio sono nascoste mamma mia impossibile evitarle no no sono proprio io scemo che non le vedo come non ho visto questo vabbè robaccia allora un attimo fatemi rivalutare tutta la situazione qua sto perdendo un attimo la... concezione qua dello spazio ah si 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 scusate no ma... io lo faccio... dai lo faccio apposta vabbè tanto comunque mi pare che dovessi scendere quindi... torniamo qui forse c'è qualcosa qui dietro che non ho preso vediamo no? niente? no va bene ok risaliamo sopra per la quarantesima volta evitiamo magari di scendere di cadere come degli idioti grazie qui 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 eccoci qua ah fermo lo stavo per rifare no ma io qui sopra ti devo affrontare come ti affronto qui sopra senza... oh 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 aspetta ok ora potrei anche cadere eh non fa niente oh ehi 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 calmo perfetto no dai non è troppo difficile aspetta che forse sei incazzato benissimo uno due tre ok va bene è andata bene è andata benissimo ora... cos'era questo rumore ah si vabbè io mi ero parato però eh vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui oh dove stiamo andando vai sul fuoco vai sul fuoco resta sul fuoco ecco ecco prima di morire devi rompere le palle va bene ma gentilmente fate... ehi 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 che cos'è cos'è quella roba no dai che cos'era ma che cavolo ma... si io capisco non sono proprio difficilissimi o con tanta vita ma se volate sopra il fuoco dovete capire che io un attimo sono in difficoltà vabbè comunque oddio mi sta giurando la testa aspettate via 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 devo scendere qui sotto aspetta ok vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui avvicinati ok mi pari abbastanza collaborativo dai 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 che forse non mi colpisce nemmeno stavo ma sti cavoli torniamo sopra nooo non vale vabbè ce l'abbiamo fatta lo stesso missione completata era lui? era questo il boss? che strano peccato ragazzi missione sottotono secondo me un po' sottotono devo dire alla fine era semplicemente una missione secondaria quindi sti cavoli beh abbiamo il tempo sicuramente credo di iniziarne un'altra quindi andiamocene e riscuotiamo il nostro premio non tutte le missioni secondarie sono così corte cioè ce ne sono altre che durano quasi mezz'oretta poi vabbè io sono andato anche particolarmente veloce perché le secondarie mi interessano ma anche no non diciamo non sono le secondarie di The Witcher uno yokei avvolto dalle fiamme che avrebbe mai potuto immaginarlo grazie del tuo aiuto l'anziano del villaggio non trovava le parole per esprimere la sua gratitudine anche se quando se n'è andato mormorava qualcosa riguardo la necessità di incrementare i sacrifici maschera io tocco queste robe qua buono ok abbiamo quanti amrita? 24.000 qui tutto completato qui chi lo trova se lo tiene il livello 15 Siranjin adesso ci chiamano Siranjin ho una richiesta piuttosto imbarazzante la famigerata spada Heshikiri Asebe tesoro del Kankuroda è andata persa ricordo di aver avvertito qualcuno frugarmi all'altezza della cintola mentre ero alle prese con quella donnaccia demoniaca nella grotta ma sono certo che non abbia preso non l'abbia presa lei si deve essere stato qualche altro demon e ti scongiuro trova la spada e riportamela beh certo è molto facile essere scippati da una spada e non accorgersene dunque ragazzi questo posto io lo odio dove c'è la donna demoniaca perché l'ho trovata abbastanza incazzosa speriamo di fare una figura buona allora lì vedo una di quelle rane che vanno colte sul fatto lì una cosa yokai aspetta eh ti prego non andare sulla cosa yokai ti prego ti odio ti odio ecco ma che ma che infame ma che infame sta roba vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui e dai che palle dove è andata eh non facciamo scherzi non facciamo scherzi rana maledetta oddio è anche forte cioè è forte picchia cavolo si spicchia si tutti e due trovendo qualche piccola difficoltà eh sarà il posto un po' strano eh no eh no cavolo allora ci sai combattere non stai ferma però dai abbi pazienza quante peccare ecco ecco per me il boss è il boss cioè è lei la spada cioè ha lei la spada ah sai che ti dico ma vai tu mi puzzi di una che ha rubato la spada perché ha troppa vita dai stai ferma dai fermo ma che cavolo ma che cavolo allora ragazzi se non ha la spada lei ditemi voi ah facciamo una cosa questo tizio deve morire perché sennò ecco perché sennò ecco muore un attimo che mi stai dando veramente un sacco di fastidio quando passo da queste parti e cadi non è caduta? nooo dai non mi fai andare sulla parte di... non mi fai andare lì eh infamona eh sicuramente avrà lei la spada ragazzi questa missione è simpatica se c'era lei che cavolo si non può essere così forte se no ehi stai buono stai buono e se io mi metto a correre in più cerco di picchiarlo per forza di cose non riesco a piccarlo bene oh dio missione completata è stata velocissima do insolita e doppi attacchi minoden attacca brighe insolita va bene che missione strana questa eh missioncina strana tanto per cambiare ogni tanto ci vuole ah scusate vado a prendermi un attimo questo oggetto qua magari non sarà niente di importante anzi sicuramente non è niente di importante però già che l'ho visto che mi costa ole ole e andiamocene ok beh missioncine rapide rapide ragazzi vediamo che succede altro sempre i caricamenti un pochetto lentucci nonostante graficamente e anche come zona non sia così ampio cioè sono le zone fatte a sé dovrebbe essere più pesante un souls o un bloodbord si quella è proprio esci il tesoro dei Kuroda affidato a mio padre dal Lord Nobunaga in persona come avrei potuto guardare in faccia mio padre se fosse andata persa hai la mia più profonda la mia più profonda gratitudine Sir Anjin e non è una e non una parola con mio padre intesi? allora ho fatto gesto prostati che è una cosa buona lancia i Koku Nagayoshi testo antico armatura del toro scatenato e il toro scatenato izaioroi oltre che Amrita e Denaru ok abbiamo 32.000 Amrita incredibile allora ragazzi abbiamo finito credo le secondarie no? si principale no livello 18 comincia un attimo a salire la tensione ragazzi questa è più alta come livello però noi ci vediamo alla prossima spero che questo video vi sia piaciuto e un saluto da titan89